Un'esperienza di servizio in alcuni Grest diocesani e quella che stanno vivendo in questa settimana 30 studentesse della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell'Ateneo di Palermo grazie alla collaborazione con la Diocesi. La cosa bella è che effettivamente potrà esserci poi una continuità. Le ragazze trapanesi che hanno partecipato al progetto hanno intenzione anche poi durante l'anno di continuare ad essere di sostegno nei vari luoghi in cui hanno collaborato nel Grest. È stata una bella sorpresa quella di poter collaborare con l'Università di Trapani, con il Rettore e con la professoressa Lamarca che da Palermo ha ipotizzato questo cammino per alcune alunne della Facoltà dove le insegna insieme con la professoressa Bonura. La Diocesi ha collaborato volentieri. È proprio importante entrare in una concezione dell'apprendimento che passa attraverso il servizio. Il servizio è sorgente di cultura, di sapienza. Lavorare per questo significa lavorare per il futuro, della dimensione concreta del servizio e della curiosità intellettuale e morale che ti permette di costruire un umanesimo nuovo. Un progetto importante dunque che conferma quanto l'Università degli Studi di Palermo stia scommettendo sul territorio di Trapani. Il territorio sta recependo in maniera sempre più attenta a tutto ciò che offre la presenza accademica e scientifica del polo qui a Trapani. È un polo che ormai accoglie in sé un'offerta formativa articolata, importante, 14 corsi di labio, il TFA, master, dottorato. Quindi è una realtà accademica straordinariamente importante. Noi vogliamo entrare nelle dinamiche sociali e culturali del territorio. Stiamo facendo anche un'opera di raccordo con le varie realtà istituzionali. Dialoghiamo costantemente con le scuole di questo territorio. Stiamo dando una strategia a questo orientamento, costruendo dei patti di comunità e assecondando le caratteristiche della provincia di Trapani. Tutti i coordinatori dei corsi di labio verranno qui. Stasera incontreranno i giovani, le famiglie, perché l'Università ambisce ad essere una compagna di vita di questo territorio e non lasciare spazi vuoti. Anche stasera parleremo con le persone, con i giovani e con gli adulti di questa nostra realtà accademica.